Torna a lavorare il Teramo con la ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio. Periodo anomalo per il Diavolo che riprende a sudare a quasi 20 giorni dal prossimo impegno di campionato al Bonolis contro il Vicenza e mentre le altre squadre del raggruppamento sono in piena sosta, visto che il Teramo ha riposato nell'ultimo turno del 2017 ed ha così anticipato le vacanze. Sarà questa una settimana intensa di lavoro, soprattutto sotto il profilo atletico, visto che il tecnico Antonino Asta ha fissato per domani. Dopodomani e venerdì tre doppie sedute consecutive, quindi sedute singole al mattino nel sabato dell'Epifania e domenica prossima. E anche la settimana della riapertura del mercato, il DS Giorgio Repetto è già all'opera per consegnare ad Asta i giusti puntelli. Prima però alcune partenze, intanto Ibrahima Diallo, destinato a tornare a Pescara, il laterale guineano classe 98 non ha affatto convinto Asta che non lo ha mai impiegato in campionato riservandogli due presenze in Coppa Italia contro Fermana e Viterbese. Stessa tratta potrebbe essere percorsa da Lorenzo Paolucci che è destinato a rientrare dal prestito dopo aver collezionato sei presenze per appena 65 minuti in campionato spiccioli dunque e tre presenze in Coppa Italia. In attacco l'indiziato principale alla partenza è Ciro Foggia, per lui tre gol, due dei quali su rigore. Tanta generosità ma una incisività offensiva molto povera. Per il momento nei pieni della società non vi è una partenza di Tulli, la principale delusione del girone d'andata. Da lui ci si aspetta un importante riscatto nella seconda parte di stagione. In difesa non ci saranno novità, salvo Altobelli non chieda la cessione per trovare altrove maggiore spazio. Con gli stipendi risparmiati attraverso le cessioni il Taramo potrà fare mercato in entrata. Si cercano un centro avanti, a tal proposito si è raffreddata la pista che porta a Sorrentino della San Benedettese, un esterno sinistro che vada in concorrenza con Pietrantonio, destinato a restare benché non abbia giocato tanto, e un centrocampista. L'arrivo di un esterno mancino, che non sarà l'ex Masullo, il Taramo vuole un giocatore più giovane, consentirà ad Asta di riportare Varsa a fare la mezzala. E poi si aspettano risposte da Stefano Amadio, finora molto limitato dagli infortuni. Con il centrocampista romano a pieno regime, le cose in mediana sono destinate a migliorare, e tanto, come si è visto negli ultimi 20 minuti di Taramo Mestre. Grazie a tutti.